Il Tar Campania si è pronunciato sull'ordinanza relativa all'attività scolastica della Regione, stabilendo l'adeguamento alle disposizioni nazionali per quanto riguarda la scuola primaria. Si ricorda che la Regione Campania aveva già consentito l'attività didattica in presenza fino alla terza classe elementare, cui si aggiungono ora anche la quarta e la quinta, a partire da oggi, 21 gennaio, rimangono in vigore le disposizioni regionali relative alla scuola secondaria di primo grado, le cui attività in presenza restano pertanto sospese fino al 23 gennaio. Per la secondaria di secondo grado si deciderà, come previsto nell'ordinanza regionale, dopo il 23 gennaio, alla luce delle verifiche dell'unità di crisi. A breve sarà emanata un'ordinanza che riassumerà l'insieme delle decisioni relative all'attività scolastica, coerenti con quanto stabilito. Sarà consentito ai sindaci e alle autorità sanitarie locali di assumere decisioni connesse ai contesti locali.